Lo spaccio dietro la vetrina di un negozio di cannabis light, questo quanto scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Arezzo. Tutto era partito da alcune segnalazioni di cittadini che denunciavano un insolito via vai da un'abitazione del villaggio Dante, descritta come un centro di smistamento dello spaccio. Così i militari con la collaborazione della polizia municipale hanno dato avvio alle indagini, inizialmente individuando l'esatta posizione della casa e poi documentando il consistente andirivieni di persone legate al mondo degli stupefacenti. Ieri mattina è così scattato il blitz dei carabinieri assieme ai colleghi della municipale e del nucleo cinofili carabinieri di Firenze. Perquisito l'appartamento, i uomini dell'arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell'occupante un ragazzo incensurato di 23 anni, 92 grammi di mariguana, 170 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.200 euro ritenuto provento dell'attività illecita. È così scattato il sequestro e l'arresto del giovane per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagine poi si è estesa anche ad un negozio del centro cittadino, un'attività di commercializzazione di prodotti a base di cannabis light. Qui i militari, occultati in parte sotto al bancone di vendita di in parte in un suo palco, hanno trovato e sequestrato 270 grammi di mariguana, 72 di hashish, 2,9 di funghi allucinogeni e numerose buste in cellofan per il confezionamento delle sostanze, con l'indicazione delle diverse tipologie. Sono così scattate le manette per il titolare dell'attività, un trentenne aretino, che adesso dovrà rispondere anche lui del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno poi proceduto anche al sequestro preventivo del negozio. Il 23enne è stato rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre per il titolare dell'esercizio commerciale si sono aperte le porte del carcere aretino.